La bellezza non ha causa, esiste, inseguila e sparisce, non eseguirla e rimane. Sai afferrare le crespe del prato quando il vento vi avvolge le sui dita e Dio lo vederà perché non ti riesca. Una parola è morta quando è pronunciata, così dice qualcuno, io dico invece che incomincia a vivere proprio quel giorno. Grazie.